signori oggi andremo a vedere un video particolare sono molto curioso di questo video in quanto andremo a vedere tutte le skin fighe sia come armor tutto sia come skin proprio per delle armi di uno che gioca dai di gannali dei tempi dei tempi amen ok stiamo parlando di revolt robbie che ha mostrato il suo account di 20.000 barra 10.000 dollari lui dice c'è nella miniatura c'è scritto 20.000 dollari nel titolo 10.000 se deve un attimo un attimo capire qual è la realtà però voglio capire che skin ha la chat lui è il livello 649 quindi avete capito che livello è porco 2 è altissimo penso ci giochi dall'anno 1 da quando dai tempi dei tempi amen all'esco lui è uno che compra tutte le elite skin come vediamo da qua c'ha tutte le elite c'ha riqua ricche morti c'ha l'unicorno ovviamente c'ha il ciondolo c'è tempo vabbè quello sti gacchia c'è nel senso oh appena oh me l'ha fatto passare come l'account della vita appena non c'ha niente urlo ve lo dico ve lo dico c'ha pure iana elite ma non ci interessano degli elite c'è bisogna avere le skin quelle fighe ma sinceramente ragazzi sta skin non è che mi piaccia tanto eh sto ciondolo è figo six major attende non so quale sia sinceramente ah jager c'ha l'evento quello chi è warhammer l'evento quello red hammer no warhammer è il gioco l'evento quello red hammer è quello boh mi ricordo ma li fa vedere così ma non si confonde bella questa raga questa skin di bana samurai quella là è molto figa ma mi fa cagare sta skin sinceramente ah penso sia super rara però a me non piace è sempre dei major se non sbaglio eh però a me non piace sapete cosa manca chat tu rainbow manca l'inventario devono mettere l'inventario con tutte le skin almeno uno capisce qualcosa perché ragazzi è impossibile che in un gioco così non ci sia un inventario e tu per andare a vedere che skin hai preso e sblocchiato c'hai di andare per ogni operatore non ha senso fammi un inventario grazie franci cioè grazie buongiorno fammi l'inventario ah l'alpha ce l'ho quella raga quella skin alfa ce l'ho presente le black ice c'è sti cavoli questo fa veramente schifo questo è il ultimo black ice c'è sti cavoli vabbè ragà le black ice il black ice black ice ma è black ice ho un vuoto di me mario ok ciao ciao vado di me mario ok ma teschina ciao allora fa un po' chagare forco due sembra un carcerato La nostra genera È inizio stagione Fa un po' cagare sinceramente Dai ma le skin Quelle ghiotte Eh voglio dare skin ghiotte Ragazzi Oh Dove stanno? Eh hai promesso cose fighe Tutto bene Stiamo vedendo ragazzi Un inventario di uno che ci gioca dagli annali Che in teoria ha detto che c'è 10.000 Dollari 10.000 dollari di inventario Cazzo Francia Eh o a me non interessa Però dove sono? Frate Ma le skin Oh Non scammazzi Porco tu ce l'ha tutte comunque C'è di quelle vecchie Madonna ragazzi C'ha tutte quelle là Ah cesù Insomma ma quanto c'ha speso? Vabbè l'ha detto nel titolo Ovviamente ragazzi C'ha tutti i ciondoli champ Ember Rice Questo piace a un botto di personale A me fa un po' cagare Sinceramente ragazzi C'è l'ondolo Quello del fiore Qua insomma Non è un che mi piaccia tanto Ma sapete che quelli champ Ci sono alcuni che fan veramente schifo Questo era veramente brutto Questo è carino Questo è bello Quello era bello Questo sì Questo è bellissimo raga Penso che quello sia il migliore Di demon Quello è bellissimo raga Demon Veil si chiama là Quello è bellissimo raga Quel ciondolo è devastante Veramente devastante Questo è pure bello Neon è pure bello Sia neon che demon Là sono belli Mi champion Questo non mi piace Ci sono alcuni ragazzi Che sono veramente brutti Ad esempio questi qua diamanti Antichi Sembrano Argento Sono strani Perché diamante Sembra argento Prima lo facevano tipo argento Un po' particolare Vabbè questi sono quelli ultimi What the fuck Ma che stai dicendoli Con quanto si cita la maturità 77 Allora i ciondoli Regani è un paio Porco due Guardate la Lagnetta di sinistra E' ancora l'inizio Questo raga Competitive player E questo Ah quindi se tu giochi La competizione Tirano con l'argento Se la vinci con l'oro Non lo so ste cose Però sono belli quelli Non da usare Secondo me raga Però sono carini Questi ce l'ha tutti C'ha un botto Dicendoli Madonna ragazzi Dio santo Raga penso che quelli fichi Finiranno tra poco Quelli viola Ah c'ha tutti quelli Di rogue Pro league Ah c'è però quello di shroud Raga quello di shroud Si confonde con gli altri Non sembra uno di uno streamer Quando fai reaction E questo è una reaction Non è al mio inventario Ma magari Poi devi decidere quale scegliere Madonna Sì Ma infatti la cosa brutta Raga di avere tutti Sti ciondoli E che non li metterai mai Cioè te li fai come collezione Ok ma I ciondoli Di solito che fai Prendi il champion Una nuova stagione Metti quello Per quella stagione E poi metti quello dopo Quello dopo Oppure se c'è un ciondolo speciale Come quelli che fanno Competitive Che hanno la coppetta Oro Metti quello Oppure se c'è un ciondolo Che l'hai preso E ora non c'è più Tipo quello del Giappone Di uno Lo metti Questa Questa è carina Questa è carina Non mi piace tantissimo Questa mi fa veramente Schifo Dynasty Ma ti vedete che è strana Questa skin Ma la skin è molto strana Questa è carina Pignacolata raga è bella È Revolterobby sì Pignacolata è figa È clean Pure quella col sole No però pignacolata Penso che tra quelle normali La diciamo sia Quella più bella No questa fa poco cagare Non mi piace La gold dust Qual è la gold dust Ah non è male come skin Perché fade ci sta Quella che ha settata Eh non Quella che ha settata Quella crossfade No Ah gold dust Ma è quella tipo esports Che siete uguali Questa è quella nuova C'è un'altra che deve far vedere Che deve far vedere figa Allora c'è un botto Dice Ma mi aspettavo delle skin più fighe Non c'è neanche la Glacier Non c'è la Glacier Ma aspettavo qualcosa di meglio Cioè Non so voi ma Cioè Cioè Ma aspettavo di meglio Sinceramente Sta skin è bellissima La di smoke ragazzi Ricca e morti è bellissima Allora Come Inventario ci sta Cioè C'è un botto di ciondoli Poi rarissimi skin Comunque Però mi aspettavo di meglio Di vedere Di avere quella reazione Tipo What the fuck bro